il santo padre da ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione nel nome del padre del figlio dello spirito santo la pace sia con voi e con il tuo spirito dal vangelo secondo luca in quel tempo gesù disse siate misericordiosi come il padre vostro è misericordioso non giudicate e non sarete giudicati non condannate e non sarete condannati perdonate e sarete perdonati date e vi sarà dato una misura buona pigiata colma e traboccante vi sarà versata nel grembo perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio parola del signore De l'Evangile selon Saint Luc Soyez miséricordieux come votre Père è miséricordieux ne jugez pas e vous ne serez pas jugé ne condamnez pas e vous ne serez pas condamnés pardonnés e vous serez pardonnés donnez e l'on vous donnera c'est une mesure bien pleine tassé secoué débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous parole du Seigneur A reading from the holy gospel according to Saint Luc Be merciful even as your father is merciful judge not and you will not be judged condemn not and you will not be condemned forgive and you will be forgiven give and it will be given to you good measure pressed down shaken together running over will be put into your lap for the measure you give will be the measure you get back the gospel of the lord Lesung aus dem Lukas Evangelium Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist Richtet nicht dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden Verurteilt nicht dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden Erlasst einander die Schuld dann wird auch euch die Schuld erlassen werden Gebt dann wird auch euch gegeben werden Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen Denn nach dem Maß mit dem ihr messt wird auch euch zugemessen werden Wort des lebendigen Gottes Lectura del Evangelio según San Lucas Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará Os verterán una medida generosa Colmada, remecida, rebosante Pues con la medida con que midierais Se os medirá a vosotros Palabra del Señor Leitura do Evangelio de San Lucas Sed misericordiosos como vosso Pai é misericordioso No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdoai y seréis perdonados Dai y ser vos ha dado Una buena medida Cheia, recalcada, transbordante Será lanzada no vosso regaço A medida que usardes con los otros Será usada convosco Palabra de Salvação Altyazı M.K. A'afo yu'afa عنkum A'atu tu'atu Sato'atuna fi eahdani com Kailen ha-sena Marecouman Mu'hazhaza Tafihan L'anahu yu'khalu lakum Bima ta-kilun Kelameu al-rab Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci soffermiamo oggi sulla quinta beatitudine, che dice «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». In questa beatitudine c'è una particolarità e l'unica in cui la causa e il frutto della felicità coincidono, la misericordia. «Coloro che esercitano la misericordia troveranno misericordia. Saranno misericordiati». Questo tema della reciprocità del perdono non è presente solo in questa beatitudine, ma è ricorrente nel Vangelo. E come potrebbe essere, altrimenti la misericordia è il cuore stesso di Dio. Gesù dice «Non giudicate e non sarete giudicati, non condenate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati». E la lettera di Giacomo afferma che la misericordia ha sempre la meglio sul giudizio. Ma è soprattutto nel Padre nostro che noi preghiamo «Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». E questa domanda è l'unica ripressa alla fine. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei Cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete gli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ci sono due cose che non si possono separare, il perdone dato e il perdone ricevuto. Ma tante persone sono in difficoltà, non riescono a perdonare. Tante volte il male ricevuto è così grande che riuscire a perdonare è sempre come a scalare una montagna altissima. È uno sforzo enorme. Uno pensa e dice «No, non si può, questo non si può». Questo fatto della reciprocità della misericordia indica che abbiamo bisogno di rovesciare la prospettiva. Ma da soli non possiamo. Ci vuole una grazia di Dio e dobbiamo chiederla. Infatti, se la Quinta Beatitudine promette di trovare misericordia e nel Padre nostro chiediamo la remissione dei debiti, vuol dire che noi siamo essenzialmente dei debitori e abbiamo necessità di trovare misericordia. Tutti siamo debitori, tutti. Verso Dio, che è tanto generoso, e verso i fratelli. Ogni persona sa di non essere il padre o la madre che dovrebbe essere, lo sposo o la spossa, il fratello o la sorella che dovrebbe essere. Tutti siamo in deficit nella vita e abbiamo bisogno di misericordia. Sappiamo che anche noi abbiamo fatto il male. Manca sempre qualcosa al bene che avremmo dovuto fare. Ma proprio questa nostra povertà diventa la forza per perdonare. Siamo debitori e se, come abbiamo ascoltato all'inizio, saremo misurati con la misura con cui misuriamo gli altri, allora ci conviene allargare la misura e rimettere i debiti. Perdonare. Ognuno deve ricordare di avere bisogno di perdonare, di avere bisogno del perdono, di avere bisogno della pazienza. Questo è il segreto della misericordia. Perciò Dio ci precede e ci perdona Lui per primo. ricevendo il suo perdono diventiamo capaci a nostra volta di perdonare. Così la propria miseria e la propria carenza di giustizia diventano occasione per aprirsi al Regno dei Cieli, a una misura più grande, la misura di Dio. Che misericordia! Da dove nasce la nostra misericordia? Gesù ci ha detto, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Quanto più si accoglie l'amore del Padre, tanto più si ama. La misericordia non è una dimensione fra le altre, ma è il centro della vita cristiana. Non c'è cristianessimo senza misericordia. Se tutto il nostro cristianessimo non ci porta alla misericordia, abbiamo sbagliato strada. Perché la misericordia è l'unica vera meta di ogni cammino spirituale. Essa è uno dei frutti più belli della carità. Ricordo che questo tema è stato scelto dal primo Angelus che sono dovuto dire come Papa. la misericordia. E questo è stato molto impresso in me, come un messaggio che come Papa io avrei dovuto dare sempre. Un messaggio che deve essere di tutti i giorni. La misericordia. Ricordo che il giorno che anche ho avuto l'atteggiamento un po' svergognato di fare pubblicità a un libro sulla misericordia appena uscito dal Cardinale Casper. E quel giorno ho sentito tanto forte questo, è il messaggio che io devo dare come Vescovo di Roma. Misericordia, misericordia per favore. Perdono. La misericordia di Dio è la nostra liberazione e la nostra felicità. Noi viviamo di misericordia e non ci possiamo permettere di stare senza misericordia. È l'aria da respirare. Siamo troppo poveri per porre le condizioni. Abbiamo bisogno di perdonare perché abbiamo bisogno di essere perdonati. Grazie. A la fine, noi reciteriamo il nostro Père in latin. Poi, il nostro Père donnerà la benedizione apostolica, specialmente ai enfants, ai persone agate, ai malati e ai persone in l'epreve. Voici le résumé en français di la catéchese che viene pronuncia il nostro Père. Chers fratelli e sœurs, C'è la seule benedizione Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est la seule benedizione Où la cause et le fruit du bonheur coïncident. Ceux qui exercent la miséricorde Seront objets de miséricorde. Comment pourrait-il en être autrement ? Car la miséricorde est le cœur même de Dieu, Le pardon donné et le pardon reçu ne possono non essere separati. La reciprocità della miséricorde indica che noi abbiamo bisogno di renversare la perspective. Ci siamo tutti dei debiteurs, inversi Dio, che è talmente generoso, e inversi i nostri fratelli. E se, come abbiamo visto nel passaggio dell'Evangile, la misura che noi serviamo per gli altri sarà anche la misura che servira per noi, allora ci conviene di rinforzare questa misura, di remettere le detti e di pardonare. Chacun deve se rappelare che ha bisogno di pardon e di patience. In pardonnare, on è pardonnato, è il segretto della miséricorde. In ricevendo il pardon di Dio, noi deveniamo capace di pardonare. La miséricorde è il centro della vita chrattina. Il n'y a pas di christianismo senza miséricorde. C'è l'un dei più beoi fratelli della carità. La miséricorde di Dio è il nostro libero e il nostro buonore. Ci siamo bisogno di pardonare perché ci siamo bisogno di essere pardonnati. E maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Cari fratelli e sorelle, specialmente in questo periodo di quaresima, vi invito a ricevere il perdono di Dio nel sacramento della riconciliazione. Voi troverete così anche la forza di perdonare a vostra volta. Dio vi benedica. Vos saluando in italiano, il Saint-Père viene di dire « Io salue cordialmente i fedeli di lingua francese. Chers fratelli e sore, in questo tempo del carico, io vi invito particolare a ricevere il perdono di Dio nel sacramento della riconciliazione. Voi troverete anche la forza di perdonare a vostro turno. Que Dio vi benisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the conclusion of the audience, we will recite the Our Father in Latin, the Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Beatitudes, we now consider the fifth Beatitude, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. This is the only Beatitude where both its cause and effect coincide. This reciprocal nature of mercy can be seen not only here but wherever we encounter God's merciful love, for there is an inseparable link between mercy offered and mercy received. In Matthew's Gospel we read, Forgive us our debts as we have forgiven those who are in debt to us. Both the Beatitude and the Lord's Prayer help us realize that we are essentially in debt to God and to others, constantly in need of forgiveness on account of our failures and sin. Recognizing our neediness and seeking and receiving God's mercy in turn strengthens us to forgive others and points to the secret of mercy. It is in forgiving that we are forgiven. Mercy is not one aspect among many, but is rather the very center of Christian life. As we thank God for his great gift of mercy, let us strive to share with our brothers and sisters this beautiful fruit of charity. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale nel nostro cammino quaresimale verso la Pasqua. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la forza e la pace che vengono dal Signore Gesù Cristo. I greet the English-speaking faithful joining us through the media as we continue on our Lenten journey towards Easter. Upon you and your families, I invoke the strength and peace that come from our Lord Jesus Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Eine Besonderheit dieser Seligpreisung besteht darin, dass das, was selig macht und das, was diese Seligkeit bewirkt, hier zusammenfällt. Denjenigen, die Barmherzigkeit üben, wird selbst Barmherzigkeit zuteil. So beten wir ja auch im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Vergebung, die wir gewähren und die Vergebung, die wir empfangen, gehören untrennbar zusammen. Wir alle stehen Gott, wie auch den Brüdern und Schwestern, gegenüber in der Schuld. Und selbst wenn wir nichts Böses getan haben, hätten wir doch mehr Gutes tun können und müssen. Wir sollten uns dies also immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir ausnahmslos alle auf Vergebung und Geduld angewiesen sind und dass uns in dem Maß vergeben wird, in dem wir anderen vergeben. Dabei kommt uns Jesus mit seinem Erbarmen zuvor. Er hat uns vergeben, damit wir einander vergeben können. Und je mehr wir uns der vergebenden Liebe des Vaters bewusst werden, desto mehr werden wir fähig sein, zu lieben. Die Barmherzigkeit ist nicht nur eine Dimension des christlichen Lebens, sie ist das Entscheidende. Wir kommen nicht umhin, anderen zu vergeben, weil wir selbst der Vergebung bedürfen. Saluto cordialmente i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. Nella Quaresima siamo chiamati in modo particolare a coltivare l'atteggiamento della misericordia. Questo è fondamentale per noi cristiani, avere l'umiltà di chiedere perdono e la generosità di concedere l'altro. Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. In der Fastenzeit sind wir in besonderer Weise aufgerufen, die Haltung der Barmherzigkeit einzuüben. Dies ist entscheidend für uns als Christen, dass wir die Demut besitzen, um Vergebung zu bitten und die Großherzigkeit vergebung zu gewähren. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy tratamos la bienaventuranza que dice dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza coincide la causa y el fruto de la misma. Aquellos que ejercitan la misericordia serán misericordiosos. Este tema del perdón recíproco está presente en toda la enseñanza del Señor, de modo particular en la oración del Padre Nuestro en la que pedimos perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay dos elementos que no se pueden separar, el perdón recibido y el perdón que se da. El hecho de que la reciprocidad de la misericordia indica que tenemos que cambiar de perspectiva. No podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido, por muy difícil que sea, porque necesitamos recordar que sólo perdonando a los demás somos perdonados por Dios. del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes. Y al experimentar su perdón en nosotros, somos capaces de perdonar. La misericordia está al centro del cristianismo y es la meta de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la calidad, que nos hace libres y felices. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos al Señor que en este momento particularmente difícil para todos podamos redescubrir dentro de nosotros su presencia que nos ama y nos sostiene y de ese modo ser portadores de su ternura a cuanto nos rodean con obras de cercanía y de bien. Que Dios los bendiga. Santo Padre, en nombre de las personas de lengua portuguesa conectadas a través de los medios de comunicación social. Testemunho a vossa santidad sentimentos de gratidão y afecto filial y aseguro las nuestras oraciones por las vossas intenciones de pastor de la Iglesia Universal. No fin, recitaremos o Pai Nosso en latín y después el Santo Padre concederá la bendición apostólica a todos con pensamiento especial a las crianças a los idosos a los doentes y atribulados. Leio ahora un resumen de la catequese que el Papa Francisco acaba de propor. Felices los misericordiosos porque alcanzaron misericórdia. Na quinta benaventuranza a causa y el fruto coincidem. Ofrece misericórdia y recibirás misericórdia. O mismo aparece en la oración del Pai Nosso. Perdoe nos las nuestras ofensas así como nos perdoamos a quien nos tiene ofendido. Muitas veces porém no conseguimos perdoar. Que hacer? A reciprocidad de la misericórdia mostra que precisamos de inverter la perspectiva. No nos fixarmos en la ofensa recibida como si fosse una montaña altísima muy difícil de escalar y ultrapassar pero reconocer como devedores de Dios. Mesmo si no llegamos a practicar el mal falta siempre para alguna cosa al bien que deberíamos hacer y de eso somos devedores a Dios y a los otros. Pues bien es precisamente esta nuestra pobreza que nos convence a perdoar sabiendo que la medida que usarmos con los otros será usada connosco. Por eso conviene nos ampliar la medida y perdoar. Temos de nos recordar que precisamos de perdón. Aquí está o segredo da misericórdia. Se perdoarmos seremos perdoados. A misericórdia não é uma dimensión entre outras da vida cristã mas está no centro. Não há cristianismo sem misericórdia. Vivemos de misericórdia e não podemos subsistir sem misericórdia. Somos demasiado pobres para ditar condições. Temos de perdoar porque precisamos de ser perdoados. Agora o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes de língua portuguesa. Cari ascoltatori de língua portuguesa, saluto e encorajo a tutti voi nel camino quaresimale que ci viene proposto, anche se en modo un po diverso rispetto al solito de altri anni. Ma Dio Padre de misericórdia lo sai, vi auguro un cammino benedetto che vi permetta di seguire e imitare più da vicino Gesù, la misericórdia divina in persona. E così possiate dire come San Paolo non sono più io che vivo e Cristo che vive in me. di voi e vostra famiglia senda la benedizione del Signore. Eis a traduzione das Suas Palavras. Queridos ouvintes de Língua Portuguesa, a todos vos saúdo e encorajo no caminho que erasmal que nos é proposto, embora num modo um pouco diverso do que era habitual nos demais anos. Mas Deus, Pai de misericórdia, sábio, desejo-vos um caminho abençoado que vos permita seguir e imitar mais de perto Jesus, a misericórdia divina em pessoa. E possais assim dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Sobre vós e vossas famílias, desta abenção do Senhor. Pai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti